Globus Television al circolo didattico Mario Rapisardi di Catania dove si è concluso un progetto intitolato Full Immersion nel mondo delle lingue, un progetto che dal 7 al 17 febbraio ha visto la partecipazione di tantissime associazioni, genitori, docenti e anche istituti del territorio per coinvolgere i bambini dalla prima alla quinta elementare in un progetto per l'appunto multietnico e multiculturale. Siamo con la preside dell'istituto, la dottoressa Rosaria Maltese che è molto entusiasta di questa iniziativa. Sì, sì, veramente entusiasta, felice perché ancora una volta la Mario Rapisardi si ritrova protagonista in un processo di apprendimento per la comunità, la comunità che apprende. È un concetto che già è partito l'anno scorso con il progetto Rush, vuol dire che la comunità vive in una sorta di coprogettazione, e copartecipazione, un ampliamento dell'offerta formativa significativa per i nostri studenti, vuol dire imparare vivendo le lingue, vivendo le diverse culture, in secondo dispositivi pedagogici molto innovativi che partono dall'arte, dalla musica, dall'espressione corporea. Quindi, come vedrete poi nei filmati, i bambini hanno veramente vissuto l'esperienza della lingua sotto forma di esperienza a più livelli, attraverso i linguaggi non verbali. Naturalmente tutto questo è stato possibile perché la nostra comunità Rapisardi integra risorse interne, docenti, genitori, alunni, ma anche risorse esterne, le associazioni, le altre scuole, il territorio, in una sorta proprio di sinergia e di armonia progettuale che permette alla scuola di arricchire sempre di più la progettualità e poter veramente realizzare competenze alte per i nostri alunni. E' anche un modo di aprirsi totalmente al territorio, non la scuola chiusa in se stessa come magari si immaginava fino a tanto tempo fa. Assolutamente, perché la scuola deve vivere nel territorio e il territorio deve entrare nella scuola. E' ormai uno slogan che tutti i nostri docenti, alunni, genitori conoscono bene e noi veramente ringraziamo perché il nostro territorio è ricco. Per quanto si possa pensare ci sono tantissime risorse, bisogna proprio trovarle, individuarle, motivarle per portare sempre più una ricchezza di linguaggi. Noi sappiamo che la scuola da sola non può realizzare la piena realizzazione della persona. La realizzazione della persona passa dal poter lavorare su diversi linguaggi, su diverse prospettive. Sabrina Fodale nella doppia veste di docente ma anche di mamma di un'alunna che ha partecipato al progetto. Ecco, come si è svolto il progetto, come è stato allestito a scuola? Bene, allora, inizialmente io faccio parte della scuola Lombardo Radice, liceo linguistico Lombardo Radice. Chiaramente il progetto è la scuola alternanza lavoro, quindi ho proposto alla preside della Mario Repisardi di poter far partecipare i miei studenti a questa iniziativa e farli diventare studenti a maestri veri e propri, quindi insegnare ai bambini tutto ciò che loro hanno acquisito come esperienza linguistica, quindi stiamo parlando di lingua spagnola, lingua inglese e lingua francese, e trasmetterla ai bambini. È un'esperienza che per loro è stata fortemente formativa, ma soprattutto non solo per i miei ragazzi, ma anche per i bambini che hanno recepito in pochissimi giorni queste nozioni, questi elementi nozionistici che hanno impartito i miei ragazzi, e che sono stati elementi già programmati anticipatamente con attività didattiche, quindi utilizzando l'IM, utilizzando strumenti tecnologici all'avanguardia, ovviamente, e quindi comunque è stata un'ottima esperienza. Anche con le madrelingue che hanno partecipato, oltre agli studenti. Esattamente, ho coinvolto anche le madrelingue, che devo dire grazie anche a loro, perché sono state meravigliose nell'utilizzare la loro esperienza con i bambini, perché loro sono abituati con la scuola superiore, e quindi anche per loro è stata una bellissima esperienza, non solo ovviamente per i bambini, ma altrettanto per i docenti. Io ho anche fatto parte, sono stata anche non solo in questo progetto, sono stata professoressa, docente, ma anche una mamma, perché in realtà qui ho mia figlia che frequenta questa scuola, e quindi ho fatto anche io la mia lezione da mamma, e questa esperienza è stata gratificante, meravigliosa nel vedere mia figlia e i compagnetti di mia figlia. Quindi questa apertura, diciamo, a questo coinvolgimento da parte dei genitori è anche qui meravigliosa. Io, anche con altri genitori, chiaramente, che hanno avuto questa esperienza linguistica. Quindi, insomma, devo dire grazie fondamentalmente ai miei ragazzi, oltre alla Preside, a tutti quelli che sono stati coinvolti a questo progetto. Irene, ti è piaciuta questa esperienza? Sì, molto. Abbiamo imparato di più la lingua, immergendoci totalmente, proprio full immersion, facendo diverse lezioni con diversi argomenti. Quale lingua ti è piaciuta di più? L'inglese. Tu, Paola, hai studiato anche? Ti sei divertita in questi giorni? Sì, è stato molto bello, perché siamo andati in palestra e praticamente la Miss Sandra ci ha spiegato come dovevamo fare il gioco in palestra, però in inglese. Quindi abbiamo anche imparato e studiato in inglese. Ti piacerebbe ripetere questo progetto? Sì, molto, perché è stato davvero affascinante. Tu vorresti rifarlo? Sì, tantissimo. E quindi speri che la scuola porti avanti progetti come questo? Certo. Cosa vuoi fare da grande? La cantante. E tu? La ballerina. Sergio Zuccarello è uno studente dell'Istituto Lombardo Radice, che frequenta il terzo anno e che qui è stato maestro. Che cosa ha insegnato ai ragazzi, quale lingua e in che modo? Abbiamo insegnato a dei bambini di quinta, seconda e terze classi. Abbiamo insegnato in due settimane, la prima settimana la lingua spagnola e la seconda settimana abbiamo fatto un approfondimento sulla lingua inglese, che comunque già conoscevano, a differenza dello spagnolo. In che modo? Abbiamo inizialmente, alcuni mesi fa, progettato tutto il nostro programma attraverso la nostra professoressa, che ringrazio, con tutti i miei compagni, in un modo molto divertente sia per noi sia per i bambini, dato che abbiamo insegnato le lingue attraverso canzoni, attraverso attività didattiche o comunque attraverso PowerPoint, quindi attraverso l'utilizzo di mezzi tecnologici, ma soprattutto anche attraverso la nostra voglia di trasmettere le nostre conoscenze linguistiche ai bambini che sono stati molto entusiasti di questa esperienza, soprattutto per la lingua spagnola, dato che era una lingua che non conoscevano. Quando entravamo nelle classi, la prima cosa che facevamo in assoluto era appunto far ascoltare una canzone che conoscono, che ormai sanno in memoria, per cercare di far apprendere ai bambini in maniera migliore, in modo migliore, la lingua e soprattutto alcune parole che non conoscono. Dunque credo che sia stata un'esperienza fondamentale per la nostra crescita, perché io ho potuto comprendere ciò che sentono le maestre, sentono le maestre, ma soprattutto ciò che sentono i nostri professori, i nostri docenti, che ogni giorno si impegnano fino in fondo per trasmettere le loro conoscenze a noi, e di questo li ringrazio infinitamente. Alla fine salutiamo Globus Television in spagnolo. Hola Globus Television, io soy Sergio Zuccarello, adios! Ciao! Ciao!